Io sono un seduttore seriale. E lei lo vede come un problema? Assolutamente sì. Io mi porto a letto tutte le donne che incontro, tutte. E' per questo che vivo barricato in casa. A me piacerebbe avere un rapporto normale con una donna. Essere amico di una donna sarebbe bellissimo. Può avere un rapporto di conoscenza, di lavoro, anche dottore-paziente, come in questo caso. Ha capito? Scusi, ero distratta. Diceva? In teoria lei sarebbe pagata per essere concentrata. Non so, mi dica lei. Ha perfettamente ragione, mi scusi, ma non so cosa mi abbia presa. Non mi succede mai. A cosa stava pensando? Non la lasci stare, andiamo avanti. Allora, prego, sia sincera con me. A cosa stava pensando? Sì, stavo pensando a... a come trovare una scusa per invitarla a cena questa sera. Allora, prego, non faccia così. No, non si alzi, mi consoli da lì. Ed è periodo, vnde che occhi �i di i capelli che sgu growneci. È periodo, vcede你是 lái o di piz Esse è periodo si tratta. Diceva! Grazie a tutti.